Tra poco più di tre mesi i cittadini di Bari saranno chiamati a votare su chi sarà il successore dell'attuale sindaco Antonio De Caro e l'accordo nella coalizione di centro-sinistra al momento è solo sulla data delle primarie o unitarie. Il 24 marzo, la domenica, delle palme. Al centro del dibattito di queste ore, a detta del PD diventato un vero tiremolla stucchevole che rischia di allontanare l'unità della coalizione, ci sono le regole delle consultazioni che decreteranno il candidato unico della coalizione di centro-sinistra alla carica di primo cittadino della città. Da un lato Vito Leccese, la cui candidatura è stata votata all'unanimità con cinque assenuti nel corso dell'Assemblea cittadina del PD, dall'altro l'avvocato Michele Laforgia, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e che ha proposto per le unitarie una preregistrazione per votare sino al giorno prima e la presenza di cinque seggi sul territorio, uno per municipio. Dopo aver accettato la preregistrazione, consentendo che sia possibile farlo fino all'ultimo minuto del 24 e aver concordato anche a trovare una soluzione tecnica per consentire il voto elettronico, il PD è chiaro. In una città che si estende per quasi 120 km2 con 320.000 abitanti, per svolgere una consultazione è necessario aprire almeno un seggio in ogni municipio e due seggi nel municipio più grande, per un totale di sei. Il PD scrive a chiare lettere in una nota, a firma del segretario regionale Domenico De Santis, del segretario provinciale Pino Giulitto e del segretario cittadino Gianfranco Todaro, di non volere più veti e ribadisce il concetto che solo una larga partecipazione della comunità del centro-sinistra potrà garantire di mettere in assoluta minoranza chi vuole condizionare primarie o le elezioni vere.